E' stato brutalmente percosso con un fucile, arma impropria, perché utilizzato a modi mazza per colpirlo ripetutamente e gravemente in proniosi riservata, ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Antonio Perrino di Brindisi, un'ottantenne di San Michele Salentino, violentamente percosso alcuni giorni fa nei pressi della sua abitazione, incontrata Pozzo Pallone, a ridosso della provinciale che conduce a Francavilla Fontana. Ad intervenire sono stati i soccorsi del 118 e i carabinieri della locale stazione. Sul caso ora indagano i militari della compagnia di San Vito dei Normanni, coordinati dalla procura di Brindisi. Le bocche restano ben cucite, ma la sensazione è che il cerchio possa stringersi già nelle prossime ore. Intanto l'uomo, un pensionato del posto, è tenuto sotto stretta osservazione dai medici del nosocomio messapico, in condizioni critiche e a causa delle ferite riportate nell'aggressione.